Siamo qui a Tribil Superiore, che è una frazione di stregna sulla dorsale che va a Castelmonte. Questo è un bellissimo posto che fino a pochi decenni fa era quasi esclusivamente prativo e adesso si tenta di recuperare i prati che sono stati abbandonati. Queste iniziative io penso che siano notevoli perché comunque aumentano la biodiversità dei luoghi, perché anche i prati qui sono molto ricchi di specie erbacee e anche di specie con fiori. Oggi abbiamo seminato un miscuglio di fiori selvatici per ricreare un prato perennante come quelli già presenti in zona, in una zona che è stata recuperata. Per ricreare il prato siamo andati ad utilizzare sia le specie selvatiche sia una base di graminacee commerciali per creare subito un cotico, cosa che le specie selvatiche non fanno perché all'inizio sono lente a germinare e a crescere, in alcuni casi neanche nascono subito perché a differenza delle piante coltivate le specie selvatiche hanno dormienza, cioè i semi nascono solo quando sentono che le condizioni ambientali sono adatte. Quello che di solito si sottovaluta è che quando noi andiamo a risseminare un prato non seminiamo semplicemente un insieme di specie, ma stiamo cercando di ricreare un intero ecosistema. E chiaramente all'interno dell'ecosistema ci sono tutta una serie di relazioni che si devono ricreare, tra le piante, il terreno, la flora batterica del terreno, i funghi del terreno, gli insetti in particolare, ma tutti gli animali che poi andranno ad utilizzare il prato, ad abitare il prato. E poi dobbiamo considerare che molte specie perenni di prato hanno dei tempi più o meno lunghi di sviluppo e non vengono subito solo perché sono specie erbacee e quindi tendenzialmente non fioriranno al primo anno, ma andranno a fiorire almeno al secondo anno dopo la semina o dopo la germinazione perché sono i loro tempi di sviluppo. Quindi oggi abbiamo dato il via a un nuovo ecosistema e adesso dovremo monitorare come si svilupperà, che problemi ci saranno, quali specie si adatteranno. Abbiamo messo un buon numero di specie perché comunque ogni situazione è diversa, all'interno di una stessa area si trovano condizioni che possono essere diverse e quindi abbiamo cercato di mettere il maggior numero di specie possibile in modo da andare a coprire tutte le eventuali variabili che troviamo sull'area di semina che è molto variabile per le sue caratteristiche. In questo modo vogliamo ricreare qualcosa che vada a ricoprire completamente l'area e ad adattarsi alle diverse microzone che si creano in rapporto all'ombra, alla pendenza, a zone più aride, zone più umide, che vanno a influire sulla presenza e l'abbondanza delle diverse specie. Grazie a tutti!